Allora, all'ospedale All'Angelo in questo momento abbiamo ancora 5 pazienti ricoverati. I due pazienti ricoverati nei due reparti di degenza, quindi non in terapia intensiva, stanno migliorando. Stiamo pensando sicuramente per uno a una dimissione nei prossimi giorni. L'altro non è immediata, ma insomma ancora 3-4 giorni poi potrebbe essere. Per quanto riguarda le tre pazienti presenti in terapia intensiva, le due pazienti in respiro spontaneo stanno migliorando. Una dovrà fare un intervento chirurgico, anche la paziente intubata sta avendo qualche miglioramento per cui si stanno riducendo un po' i farmaci ipnotici. Questo per quanto riguarda i cinque pazienti presenti qua a Mestre. Se volete vi do anche un dato rispetto agli altri due ospedali della nostra azienda. Sono stati identificati quelli che non erano identificati tra i feriti? Tutti i pazienti ricoverati sono identificati. Che nazionalità sono? No, adesso non le do il dettaglio in questo momento. Il dettaglio ve lo do in un altro momento anche perché non ce l'ho sotto mano. Allora, dal punto di vista invece degli altri due pazienti che noi abbiamo nella nostra azienda, che sono un paziente che era in rianimazione a Mirano che è uscito ieri ed è in chirurgia generale e sta andando molto bene per cui tutti i suoi problemi legati al trauma stanno evolvendo positivamente. La signora che invece è in rianimazione a Dolo è una signora che nonostante le sue problematiche legate al trauma sta andando abbastanza bene e quindi uscirà dalla rianimazione penso inizio della prossima settimana. Quindi nessuno è a rischio di vita anche tra i gravi? No. Allora, è chiaro che delle due che vi ho appena detto di Dolo e Mirano direi che possiamo stare tranquilli. Per le tre che sono qui ce n'è una ancora su cui è il caso di non pronunciarsi. Che tipo di intervento chirurgico deve subire la paziente che è uscita dalla rianimazione? Non è ancora uscita, è ancora in rianimazione e deve fare un intervento legato a un problema di trauma. Invece il paziente ricoverato a Mirano, il paziente curato, è uscito e intera? È uscito, è in un altro reparto. E come si trova? In quale reparto? Non lo dire, guardi, è in un altro reparto. Quello che possiamo dire è che ha un'evoluzione francamente positiva. Non abbiamo previsioni. Sapete che comunque quando un paziente è ricoverato possono succedere tante cose per cui a meno che non ci sia una dimissione imminente è difficile pronunciarsi. Quindi ci vorranno alcuni giorni. Come è la situazione dei pazienti tedeschi? Allora, noi abbiamo ricoverato un unico paziente tedesco che è qui all'Angelo. Non è mai stato francamente in pericolo di vita. Lui è ancora qui, ha una prospettiva di dimissione a breve, però ancora non è stata definita quando. Però lui ha un'evoluzione veramente positiva. Direi che è quello di quelli che abbiamo in azienda ULSTRE, quello che ha le condizioni migliori. Quindi è di nazionalità tedesca il paziente tedesco?